Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Garcini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori tra Ginestra, Fiorentina e La Strassigna si segnalano due chilometri di coda in direzione Firenze. Spostandoci in A1 in direzione Bologna per lavori corsie di sinistra chiuse tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e un chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Sempre verso Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. In direzione Roma code per traffico intenso tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino. In A11 in direzione Firenze code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e un chilometro di coda tra Sesto Fiorentino e Beretola. In A12 code per lavori tra Massa e Carrara in direzione Genova. Ed è tutto, buon viaggio! Ed è tutto, buon viaggio!